Cioè, pasta, tonno e zucchine e ci preoccupiamo di quante zucchine utilizzare? Domanda sbagliata. Al massimo sarebbe potuto chiedere quanta pasta utilizzare o quanto tonno utilizzare o entrambe le cose che dobbiamo bilanciare, dobbiamo bilanciare il tutto. Quindi se va bilanciato vuol dire che dobbiamo tenere in considerazione tutto quanto, ma comunque bilanciare il singolo pasto non ha senso, va bilanciata l'alimentazione nel suo complesso, quindi messa così non vuol dire niente, le zucchine, su zucchine, fatemi pure sti problemi mi raccomando.